La vicenda della casa famiglia per anziani di Albignaso col comune la vuole chiudere i familiari disposti a scendere in politica pur di salvare i loro nonni. Una 45 anni di campo d'arsego picchiata e minacciata con un coltello davanti alla figlia, un altro caso di violenza in famiglia, una trentenne sequestrata dall'ex. Cavalla in bizzarrita, scappa al padrone, travolge due passanti, uno ferito gravemente all'orecchio e un altro con una costola rotta. In occasione della nascita di Mahometto, un gruppo di giovani musulmani che si chiama PSM ha fatto volantinaggio in Prato della Valle per sensibilizzare i padovani. Vigili del fuoco hanno iniziato ad allestire la grande pira in Prato della Valle per il brusa alla veccia di domani, il comune annuncia gratis Park Rabin. Commercianti padovani insoddisfatti per l'andamento di questo primo fine settimana di saldi, buone le vendite, tanta gente per le strade del centro. Maestri della cucina per un giorno si dilettano con il ghiaccio creando meravigliose sculture. Buonasera, ben ritrovati con l'informazione di TG Padova. L'avete sentito nei nostri titoli in apertura. Torniamo ad Albignasego per il caso della casa famiglia per anziani. Questi nonni che stanno bene non vogliono andare via. Allora in questo secondo capitolo della questione scendono in campo anche i familiari che si dicono pronti anche a scendere in politica pur di difendere la casa dove vivono i loro genitori. E di queste case ce ne vorrebbero tante altre, non questa solo. Il comune, la provincia, la nazione dovevano aiutare queste famiglie che devono aiutare i nonni. Il comune di Albignasego chiede tempo per studiare le carte e tutte le motivazioni contenute in quell'ordinanza che impone alla famiglia per anziani dell'Onlus Sandra di chiudere. Le violazioni contestate dalla struttura, stanze troppo piccole, privacy violata, alimentazione inadeguata. Avevamo i nonni che stavano facendo il pomodoro così, stavamo mangiando il pomodoro fatto dai nonni e mi hanno anche contravvenzionato per il discorso dell'alimentazione. Sono tutte contenute nel rapporto dei servizi sanitari. Disposizioni, dichiara il sindaco Massimiliano Barison, che se non rispettate farebbero incorrere il comune in un reatto. Ma intanto i familiari degli stessi ospiti che hanno visto nelle loro mamme e nei loro papà un miglioramento quasi miracoloso promettono di scendere in campo con tutte le loro forze. Se è il caso, essendo anche in politica, perché sono stanco, perché sono proprio arrivato al limite, voglio che i diritti che vengono fuori da loro e dai miei nonni non siano calpestati, perché io qui non mi sento più tutelato. Parla Diego, il figlio di Mario, il primo ospite ad arrivare nella casa famiglia, dopo anni di casa di riposo. Non voglio ritornare al passato come un anno fa, che ho visto sulla sua pelle cosa stava succedendo. La struttura te lo alletta, gli mettono garaffe da un litro e mezzo sul comodino a distanza di un metro con le medicine e lo lasciano lì. Allora io dico, se in Italia l'alternativa c'è su tutto, perché c'è su tutto, perché non ci deve essere un'alternativa dove alla casa di riposo io ho un'alternativa? Allora, nella giornata di mercoledì incontreremo il sindaco di Albignasego. Adesso invece vi parliamo di due storie terribili di violenza in famiglia, una moglie e un'ex compagna violentemente attaccate dai rispettivi coniugi. Donne vittime di violenza, due gravi episodi a poche ore di distanza l'uno dall'altro. Il primo a Campodarsego dove un 43enne ubriaco non ci ha pensato due volte a picchiare selvaggiamente la moglie davanti alla figlia minorenne. A finire in manette con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni e minacce, Dino Giovanni Soriani, l'uomo sabato sera in preda ai fumi dell'alcol, ha iniziato a inveire contro la consorte 45 anni, arrivandola a minacciarla con un coltello da cucina. La presa a pugni e a sberle, tanto da procurarle ferite gravi alla testa, al volto e dal collo, tutto sotto gli occhi della ragazzina. È stata la moglie che, benché sotto shock, è riuscita ad avvertire i carabinieri della locale stazione che l'hanno arrestato. Ora Soriani si trova ai domiciliari presso l'abitazione del fratello. Si è accanito invece contro la sua ex, Giorgio Rata, 38enne romeno, arrestato la scorsa notte attorno a Luna a Campo San Martino. È accusato di sequestro di persona, lesioni personali volontarie, rapine, detenzioni illegali e dimunizioni. L'uomo, dopo aver colpito l'ex compagna, 31 anni, Dino Ale, su varie parti del corpo con pugni, l'ha spinta con forza nella sua automobile, rubandole il cellulare. L'ha trattenuta, minacciandola di morte se non avesse riallacciato la loro relazione sentimentale. Non contento, le ha procurato diverse lesioni. I carabinieri l'hanno colto in fragranza. Da perquisizioni personale del mezzo sono stati rinvenuti e sequestrati due proiettili calibro 9. Per lui si sono spalancate le porte del due palazzi. Ed ora guardate, queste immagini risalgono al pomeriggio di sabato. Siamo in Prato della Valle. Volantinaggio da parte del gruppo PSM, significa partecipazione e spiritualità musulmana, che hanno fatto un flash mob con volantinaggio per avvicinare i padovani all'Islam. Spiegare il pensiero di Maometto in occasione dell'anniversario della nascita del profeta. L'associazione, che conta gruppi in tutta Italia, ritiene che le donne siano pari agli uomini e che i musulmani d'Italia possano essere un valore aggiunto per il paese. Hanno così partecipato anche alle fiaccolate delle scorse settimane contro l'Isis e la minaccia del terrorismo. Invece una cavalla imbizzarrita è sfuggita al padrone. Ha letteralmente travolto due persone mandandole all'ospedale. La nostra prima notizia di Cronaca. È sfuggita il controllo del suo padrone che la teneva per le briglie. Una cavalla imbizzarrita ha seminato il panico ieri pomeriggio in via Porto Superiore a Brugine. L'animale ha cominciato a correre all'impazzata, travolgendo due uomini che stavano passeggiando. Ferito un 32enne di Agna, ricoverato in ospedale per una brutta emorragia ad un orecchio e un artigiano di 58 anni di Brugine che ha subito la frattura di una costola. Il padrone della cavalla ha subito chiamato i soccorsi. L'animale è stato poi ripreso e ricondotto nel recinto. L'uomo però è stato denunciato per omessa custodia e malgoverno di animale. Dopo l'aggressione in cimitero, ancora una rapina a Villanova di Campo San Piero. Questa mattina due persone, con il volto coperto da sciarpe berretto e armate di taglierino, sono entrate nella filiale di Via Caltana del Monte dei Paschi di Siena. Si sono diretti verso la cassa aperta e sotto gli occhi dell'unico cliente presente si sono fatti consegnare tutti i contanti, 5.000 euro circa. Pare che i rapinatori parlassero di Aletto Veneto, poi sono scappati a bordo di una Fiat Punto Grigia guidata da un terzo complice. Indagano i carabinieri di Pionca di Vigonza. Verranno celebrati mercoledì pomeriggio alle 14.30 nella chiesa di Borgo Rico i funerali di Alberto Ruffato, l'operaio 23enne, morto la sera del 1 gennaio mentre era in auto con un'amica e stava riaccompagnando a casa un ragazzo a Vigonza. La pagina economica buona alla prima per i saldi, primo weekend, ragazzi presi letteralmente d'assalto. Vediamo. Come stanno andando questi saldi? Bene, bene. Tutto bene. Il weekend? Non ci lamentiamo per nulla. Guarda per noi per fortuna bene, siamo fortunati poi non lo so. È andata decisamente bene, un po' per l'euforia iniziale, un po' per il timore di perdere il capo che si era adocchiato e si aspettava scendesse di prezzo. Dalle boutique ai piccoli negozi, fascia alta di prezzo oppure fascia più bassa, per tutti è stato un buon primo weekend di sconti. Mi sono contento, perfetto, anche l'anno prossimo se è possibile. Cosa fa di più? Ma di tutto, comunque con il freddo, i maglioncini, i giubbotti magari, si fanno più occasioni. Centro storico e centri commerciali presi d'assalto durante tutto questo primo weekend in cui le percentuali di sconto erano ancora contenute. Noi fortunatamente riusciamo a partire con una percentuale e mantenerla fino alla fine dei saldi, per correttezza. Qualcuno, come questa negoziante, terrà le percentuali fisse dal 10 al 30% per tutto il tempo. Altri sceglieranno in base alle rimanenze. Scarpe della collezione passata, qualcosa che ci è rimasto un po' di più, non i continuativi, però ecco, la collezione in tutta invernale è andata. Alcuni osano già con il 70% e sono quelli presi d'assalto. 70% sono offerte veramente. Si punta al 70? Sì, massimo sì. Allora si attende la grande festa per la veccia che verrà bruciata domani in Prato della Valle. In quest'occasione è anche per favorire i saldi e quindi gli acquisti. Il Comune regala il parcheggio ai Padovani. La festa è per i bambini, ma lo sarà anche per i genitori che li devono accompagnare in Prato della Valle. Domani, giorno dell'Epifania, si potrà parcheggiare gratis in Piazza Rabin. L'annuncio dal Comune. Noi semplicemente cerchiamo di offrire il miglior servizio possibile alla nostra cittadinanza. E anche per la Befana, visto che in Prato della Valle si svolgeranno moltissime iniziative, il Park Rabin sarà gratuito proprio per tutto il periodo in cui si svolgeranno queste attività e quindi dalle ore 14 alle ore 19, finché appunto verrà bruciata la vecchia, ci saranno tutti il parcheggio gratuito del Park Rabin. Gratis come quello fiera a Sarpia e capolinea dei tram che lo sono stati per tutto il periodo natalizio e poi ovviamente anche i parcheggi di calico-scarico disponibili a partire dalle 15. Iniziative per far vivere il centro e incentivare il commercio favorendo i parcheggi e anche i margini della ZTL. Cercare di dare più posti auto alla cittadinanza è una delle priorità di questa amministrazione e quindi sicuramente il rilancio del commercio può ripartire anche da una rivalorizzazione e da una rivitalizzazione anche di tutta la pianta dei parcheggi. Ed è stata un po' la linea che abbiamo adottato anche durante il periodo di Natale. Per la gioia dei più piccoli invece oltre 9.000 calzette, quelle che verranno distribuite domani a tutti i bambini, solo a quelli buoni, che andranno a vedere lo spettacolo della Pira. Alle 17 l'accensione del grandissimo falò per il brusa la vecia. Per i genitori immancabile il vin brulè e tutti i soldi raccolti quest'anno verranno consegnati all'OIOV, l'Istituto Oncologico Veneto. E questa sera ci sarà anche il governatore del Veneto, Luca Zaia. La tradizione va rispettata, così il Presidente della Regione ha dichiarato questa mattina. Lui sarà presente nella marca trevigiana al falò, il pane vin, così come viene chiamato nel trevigiano, che si accenderà alle ore 21 ad Arcade. Dopo le varie polemiche che ci sono state anche per quanto riguarda il pericolo, inquinamento legato al pane vin, il governatore ha dichiarato che la tradizione è degna di questo nome, va rispettata, è per questo che io sarò lì in prima fila insieme ai cittadini per festeggiare le sorti del nuovo anno. E allora noi siamo stati in Prato della Valle, perché qui a Padova il pane vin, la Pira, si accende domani pomeriggio, come abbiamo già annunciato, ma c'erano già i preparativi e tra un preparativo e l'altro abbiamo trovato anche la vecchia. Quindi lei è? La Befana domani sarò! Oggi però sono in altre vesti e do una mano ad allestirla. Domani mi travesto, come da dieci anni a questa parte, undicesimo anno quest'anno. Cambierò completamente la voce, sarò la vecchia! E domani ci sarà lui, qui a far sorridere grandi e piccini, ma oggi era in Prato della Valle, insieme ai colleghi guidati dal caporeparto Riccardo Marchiori. Almeno una trentina di uomini, tutti oggi in servizio volontario, più altri 20 colleghi in pensione. Loro, gli uomini impegnati quotidianamente a spegnere i roghi, dovranno non solo accendere la pira, ma anche allestirla. Bambù, legno, canneto e basta, tutto quanto materiale vegetale, che non inquina. La pira di Padova non teme polemiche perché è completamente vegetale. La testa è una struttura metallica rivestita di tessuto. È il secondo anno che la costruiamo in questo, che costruiamo veramente la Befana. Avevano iniziato a farlo al comando per i bambini e così hanno adottato anche la vecchia di Prato della Valle. Questo bimbo qua l'ho conosciuto nella sua scuola materna, andando a fare scuola sicura da lui. Vero? Eh? Ma gli dici come ti chiami? Riccardo Riccardo. E cos'è che ti piace tanto? I pompieri A loro però non chiedete di fare pronostici, non è il loro mestiere. Senta, ma la storia delle faville a destra e a sinistra la conosce? Eh, questo proprio mi chiede ogni anno e ogni anno, questo non lo so. E allora dal fuoco al ghiaccio ci spostiamo ad Abano Terme. Ieri è andata in scena un concorso molto particolare, guardate. Di solito sono abituati a maneggiare pentole e mestoli, creare grandi piatti con gli ingredienti, ma per questa domenica sei chef degli hotel più rinomati di Abano Terme si sono dati battaglia a suon di motosega e scalpello. Lo scopo? Lavorare il materiale forse più effimero, il ghiaccio, per dargli una forma e se possibile un significato. E così, davanti allo sguardo incuriosito di centinaia di spettatori, ecco materializzarsi come per magia un drago, una farfalla, l'abbraccio tra un padre e un figlio. Ma a conquistare il pubblico, che doveva votare la scultura preferita compilando un'apposita scheda, è stato il pesce Marlin, realizzato da Gianluca Scalabrin, chef presso l'Amano Grand Hotel. Blocchi di ghiaccio da 120 chili, due ore di tempo per creare. Soddisfatti l'assessore al turismo e il sindaco Luca Claudio presenti durante tutta la manifestazione. Aspettiamo solo gli investitori esteri, adesso ha sottolineato il sindaco commentando il tutto esaurito delle terme in questo Natale 2015. Certo, manifestazioni come questa contribuiscono ad aglietare una festività pagando l'occhio e anche il portafoglio. Il grande cinema di Rete Veneta, questa sera vi proponiamo una pellicola dal titolo Le Nevi del Chilimangiaro con Gregory Peck. Poi vi ricordo domani la diretta della Santa Messa, questa volta Messa Solenne dell'Epifania, dalla chiesa di Calvecchia di Sandonà di Piave. Adesso vi lascio alle immagini del presepe e continuiamo a parlare di ghiaccio ad Abano Terme per il presepe allestito proprio in comune. Abano Terme per il presepe e continuiamo a parlare di ghiaccio ad Abano Terme per il presepe. Abano Terme per il presepe e continuiamo a parlare di ghiaccio ad Abano Terme per il presepe e continuiamo a parlare di ghiaccio ad Abano Terme per il presepe e continuiamo a parlare di ghiaccio ad Abano Terme per il presepe e continuiamo a parlare di ghiaccio ad Abano Terme per il presepe e continuiamo a parlare di ghiaccio ad Abano Terme per il presepe e continuiamo a parlare di ghiaccio ad Abano Terme per il presepe e continuiamo a parlare di ghiaccio ad Abano Terme per il presepe e continuiamo a parlare di ghiaccio ad Abano Terme per il presepe e continuiamo a parlare di ghiaccio ad Abano Terme per il presepe e continuiamo a parlare di ghiaccio ad abano Terme per il presepe e continu